Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, nuovo video. Skincare, come state? Si va bene? Non mi sembra giusto, però... Niente, scusate, ho giusto un po' di potertura, ok? E niente, ci tenevo... Ah, si è scritto rumore che la luce su, se accendo questa, sparisce tutto, nel senso che la luce non è in base, quindi accendo questa. Oh, non lo so come posso fare. Quindi niente, ora li provo, vediamo un po' cosa succede. Posso restare a farlo? Allora, proviamo. Non so. Allora, ve lo vediamo di intorno. Ok. Eccolo qua. Allora, tengo un punto con la faccia. Devo farlo anche presto, perché sennò... Lei è mia oma e poi... Ciao. Allora, io, come sempre al solito, ho detto le gente dalla WC. E niente... uso questo e mi sto portando molto. Ti abbraccio in tanti... in tanti... in tanti spazzoli di video. E ve lo ho detto. Ecco qua. Certo. eccomi qua spero che mi devo prendere la sua mano e la scelgo della faccia e sono porti a parte la trema nel mio vetto e non l'apposta poi la nata di crema crema assolta della piscina vedete, ecco qua metto una quantità e sono apposta poi metto la burra che non cambia con voi ok intanto qui non so che la stagione con questa luce dopo spegne la luce dopo spegne la luce per cui non so di niente questa luce dovrò mi arrivarle allora questa è la mia spinta a nottina nottina l'altra il tonico tanto non lo uso quasi mai se guardate le volte che lo dare le volte che lo uso e niente a posto ragazzi ora vado in camera mi verso e ci vediamo dopo per il trucco se mi riuscirà a fare il nostro trucco però che non faccio il letto perchè è insorgnato allora niente ragazzi adesso mi invento gli occhiali e ci vediamo alla vestizione mia cioè quando mi sono quando mi sono mi sono vestita ok? a dopo dai a dopo ciao ragazzi e riecomi di nuovo da capo perchè prima non so se ho registrato l'altro videoclip che era un bagno e stavo lavando i miei denti ma non lo vedi non mi avete visto registrare niente perchè l'ho lavati off camera ovvero in separata sede adesso mi ho lavato la faccia poco fa avete visto il mio video piccolo video skin care una piccola aiuta una piccola videoclip e adesso vedrete che mi sto toccando perchè allora innanzitutto sto cominciando a prendere il burro cacao per ovviamente idratare le labbra che ne hanno veramente bisogno anche se sto bevendo tanta acqua però la crema il viso e il burro cacao labbra ci deve sempre essere comunque nulla burro cacao labbro sun si chiama questo l'ho preso al sapo nei profumi e ora vado con allora ho il specchietto qua se vedete che sto guardando qua e vado a prelevare se trovo il mio ah ecco devo fare le sopracciglia vedete come sono io stacco e torno allora ecco mi ho fatto le sopracciglia alla buona si potrebbe dire con questa matita qui della rimel 121 221 mi ricordo cos'è non importa basta che mi abbia fatto le sopracciglia uniformata le sopracciglia nulla cosa devo dirvi niente devo fare devo un po' colorare questo benedetto questo benedetto viso perché così non posso tenerlo non mi piace sto usando l'info al libro di l'oreal 327 casmi questo qua oddio come mi vedete voi non lo so comunque questo e vediamo un po' qui come si accogna che la sito intanto lì oh mamma mia che razza di ops stavo sporcando tutto molto bene si vabbè se qua trovassi vabbè faccio tutto con le dita va tra l'altro è quasi asciutto questo correttore che non ce n'è più non ce n'è più oramai uso anche dove l'ho messo l'altro vera detto ecco qua il pennello da fondotinta e vado col fondotinta sempre se lo trovo qui ecco qua schiccio c'è una mia bella pochette vedete la pochette che ho qua questo è decinesi ma questo è decinesi allora questo è fondotinta di essence fondotinta di essence colorazione non lo so 30 soft 30 non lo so in colorazione sia non ne ho idea come trovo scrivo tutto nell'info box se mi trovo comunque questo è un make up tutorial per restare un po' in casa uscire non lo so vediamo anche per uscire questo è un po' dove metterlo metterlo qua dovrebbe per forza mettere così ragazzi se no non riesco aspettate un secondo ok si vedete spero di sì però la luminosità qua è troppo bassa ok forse così va bene io non lo so perché c'è questa luce così brutta boh se sentite la televisione perché a mia mamma non si sente tanto bene e quindi ecco perché mi tocca avere la televisione più alta però spero che non sentiate troppo perché non sarebbe bello allora comunque niente non ci prego della televisione come sta andando il mio make up bene piuttosto bene perché non mi trucco spesso ma ogni tanto mi trucco e mi sta piacendo tanto truccarmi non sempre perché non mi va ti truccarmi sempre però lo faccio spesso e volentieri quando mi va di fare un tweet e trucco con voi oddio quanto ne sto mettendo quanto ne sto mettendo una cosa impressionante ok anche da qui non voglio andare troppo oltre perché se non rischio di fare l'effetto vedete qua c'è il pelurio che vorrei levare ma non so come levare ovviamente voi direte con la ceretta sì lo so però per il momento con questo coso che ho qui questo bozzo che ho qui non so se si vede non me la sento di levarlo per niente voglio vedere se tanto sta registrando sta cosa si sta registrando mamma mia questo telefonino comunque questo fondotente è molto buono mi piace mi fa proprio è un gioiello di fondotente molto buono non lo dico perché lo voglio per forza farvelo acquistare però mi piace e basta non costa neanche tanta non mi ricordo il prezzo però appena lo ritrovo ve lo dico il prezzo quanto lo rientro a ricomprare sempre se lo ritrovo questo fondotinta ok dovrebbe esserci adesso allora questo al momento ops ok lo chiudo fatemi vedere un po' non è male però lo voglio ci sono un po' con la spugnetta aspettate un secondo non troppo bagnata ovviamente con la spugnetta l'ho aggiustata con questo qua della termal allora così faccio così con quella della spugnetta così così ok bene non posso essere maniato ma pazienza cosa posso fare perché voglio effetto naturale come suol dire un effetto abbastanza naturale ok tanto devo rilevare la spugnetta vado con il bronzo che la sto terminando della rimel mi si è pure spaccato mi si è pure rotto il packaging il coperchio del rimel questo è shimmer stay matte 004 mi pare si ok non metto non metto mascara proprio tanto ragazzi o lo metto faccio un'eccezione solo per voi perché voglio stare bella chiara quando faccio un make up un make up tutorial non voglio essere così posti male e poi non sono una truccatrice però mi piace truccarmi lo stesso voglio assedere se registrando ancora si sta registrando si sta registrando meno male voglio evitare e quindi nulla mi piace truccarmi e mi ci trucco punto vado col blush della rimel e faccio tam 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 ecco qua un pochettino non molto ma appena e prelevo qua mi ero dimenticata questo questo qua e niente adesso lo ripongo qua a posto ciao ari ciao allora vi stavo dicendo se questo trucco vi è piaciuto perché ho messo rossetto mascara mi sono messo mascara e altro non mi ricordo cosa ma vabbè se questo trucco vi piace ora mi sistemo i capelli aspettate un secondo che me li sistemo e ci vediamo e ci vediamo a un prossimo video sempre se questo video vi è piaciuto e attivate la campanella se vi iscrivete e niente e noi ci si vede a un prossimo video ok ciao ragazze a presto un bacione un bel pollicione in su commentate e ovviamente buona giornata a tutte ciao buon divertimento buon prossimo a tutte ciao 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 ciao